Vangelo di domenica 14 novembre 2021, Marco 13, 24-32. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i Suoi eletti dai quattro venti dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo, dalla pianta di fico, imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli, né il cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Parola del Signore. In queste ultime domeniche del Tempo Ordinario, la liturgia ci invita a puntare gli occhi sulla fine e sul fine della storia, sul come andrà a finire. Come andrà a finire? La Bibbia ci dice che andrà a finire con il ritorno di Gesù. Dice, il Vangelo vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria, manderà i suoi angeli e radunerà gli eletti dai quattro venti. Sono tutte immagini simboliche di un certo tipo di letteratura, di un genere letterario che si chiama apocalittico, che non ha lo stesso significato che usiamo noi nella nostra lingua corrente. Per noi apocalittico vuol dire devastante, distruzione, catastrofico. Apocalittico invece vuol dire rivelativo. Apocalisse vuol dire rivelazione. E che cosa ci rivela questo genere? Ci rivela che la storia non finirà nel fuoco, ma finirà in un abbraccio, finirà in un incontro, nell'incontro con il Signore Gesù. Non più nell'umiltà del presepio come la sua prima venuta, ma nella gloria di una potere, di una potenza che, come dire, trasformerà, trasfigurerà esattamente tutto l'universo. E allora anche le immagini, il sole si oscurerà, la luna non darà più la luce, le stelle cadranno dal cielo, ecco, dobbiamo prenderle non come immagini solo distruttive o realistiche, ma immagini di un parto, immagini di una nascita del mondo nuovo, o meglio, rinnovato, dalla Ressurrezione di Cristo. E allora che cosa ci invita il Vangelo di oggi? Ci invita a guardare i semi che spuntano, diciamo così, i germogli di questo mondo nuovo che nasce, sta nascendo, è già nato in mezzo a noi e di essere pronti, essere pronti perché perché ogni generazione, non sarà passata questa generazione senza che tutto ciò sia avvenuto, ogni generazione è l'ultima generazione perché per ognuno di noi quando si avvicina alla fine è l'ultima generazione, siamo gli ultimi che si affacciano al grande passaggio. Ecco, guardare questi germogli di vita nuova vuol dire scoprire tutto il bene che c'è nel mondo, tutti i santi della porta accanto, come dice Papa Francesco, tutte quelle persone belle che riempiono la vita di gesti buoni, di opere belle, opere e gesti di amore ed essere anche noi queste persone che anticipano il mondo nuovo, allora saremo pronti, allora quando il Signore ritornerà ci dirà bene, servi buoni e fedeli, venite nel mio regno, questo regno che voi avrete preparato fin d'ora con le vostre scelte di vita.